Canale YouTube Qui Studio Vestadio, un caro saluto da Gianluca Rossi, amici all'ascolto, amici interisti, delusi per il pareggio e lo capisco, a Genova contro la Sampdoria che naviga nei bassi fondi della classifica, anche se io personalmente di vedere Stankovic che già avevo visto a Monza, perdere la sconfitta per un rigore che c'era e al 99esimo mi era dispiaciuto, certo non pensavo poi di regalarglielo io un altro punto, però ragazzi qui dobbiamo essere molto pratici, io è dall'inizio di quest'anno, ma in parte anche l'anno scorso che vi parlo di una inaffidabilità cronica dell'Inter, poi come al solito si darà adesso la colpa di Inzaghi, date la colpa a chi volete, la verità è che questa squadra, come tutte le altre poi, 3-4 partite in fila, vinte, ma non dico bene dominando, non le mette, non c'è verso, non le mette amici di cui studio WeStadio, del canale YouTube, iscrivetemi, ma e poi mi viene da ridere perché ogni volta si chiede ad Inzaghi, ogni volta che c'è un mezzo passo falso, mister ma adesso per lo scudetto allora la vicenda è chiusa, ma la la vicenda scudetto è chiusa già da un pezzo, per tutti e non è che ogni volta che fai un mezzo passo falso allora il discorso è chiuso o se hai battuto il Napoli a San Sero il discorso è aperto, la verità è che ormai i segnali sono inequivocabili, ma non da adesso, già da un sacco di tempo, il Napoli è incappato nella stagione assolutamente unica e miracolosa in cui tutto gira per il verso giusto, non c'è niente da fare, ormai le partite le vince di inerzia, hai voglia che Spalletti ogni volta che uno gli chiede mister ma allora se si batte la Cremonese siamo più vicini e c'è un pezzettino di scudetto e lui risponde vuol dire non voler bene al Napoli fare una domanda così, nell'intimità delle mure domestiche, al di fuori dei contatti con la stampa, vogliamo dire una grande verità, Spalletti sa benissimo di avere tra le mani a sua insaputa, con sua sorpresa da mesi una macchina da guerra e se non è caduto il Napoli psicologicamente dopo la sconfitta con l'Inter e se non è caduto, e non vedo perché avrebbe dovuto cadere dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Cremonese, quando mai potrà cadere il Napoli? Perché se inaffidabilità è la parola d'ordine dell'Inter, io vorrei, su questo sono molto netto però, inaffidabilità è la parola d'ordine anche di tutte le altre, perché se noi andiamo a vedere la classifica dopo 22 giornate, sì l'Inter ha un po' di punti in meno l'anno scorso, forse 6, ma perché ha perso un po' troppe partite nella prima parte del campionato, però Inter 44, Atalanta Roma, Milan 41, Lazio 39, più o meno con qualche sconfitta di troppo per tutti forse, perché abbiamo concorso alle varie punti a vicenda, però più o meno sono i numeri di un campionato normale per tutti, che sarebbe combattutissimo, la verità è che il campionato da tempo ragazzi, da molto tempo è diventato a 19 squadre, perché il Napoli con 59 punti ha dei numeri, 19 vittorie, due pareggi, una sconfitta proprio contro l'Inter, ha dei numeri che sono anormali, che sono tipici di una stagione magica. Va bene, adesso veniamo pure alla prestazione dell'Inter con la Sampdoria, io onestamente ve lo dico, ho visto un ottimo primo tempo, ho visto finalmente Lukaku in grado di fare le cose che ricordavo, primo tempo è andato bene, l'Inter è stata anche un po' sfortunata, perché comunque di occasioni ne ha create tante e francamente quando ho visto andare all'intervallo sullo 0-0 ho pensato che con un grande avvio di ripresa, esattamente come la chiusura del primo tempo, l'Inter avrebbe potuto poi segnare il gol del vantaggio. Ci ha provato in tutti i modi ragazzi, sicuramente il secondo tempo è stato inferiore al primo, sicuramente. Voi ve la prendete sempre con Inzaghi e allora vi dico che i cambi che sono stati fatti al minuto 65, cioè Dumfries in pratica per Darmian, Brozovic per Barella e Dzeko per Lukaku, sono gli stessi che avrei fatto anch'io. Ma l'Inter aveva già cominciato a scendere prima dei cambi, perché a un certo punto ha preso fiducia alla Sampdoria, ma anche nel secondo tempo, adesso al di là di un paio di spunti di Gabbiadini, ci sono i due tiri di Cialanoglu, uno fuori di poco e un altro voglio dire apparato da Udero, c'è una traversa nel finale di Acerbi, non è che l'Inter non ci abbia provato, ci ha provato in tutti i modi. Poi sicuramente il primo tempo, sono d'accordo con voi, è stato migliore del secondo della ripresa. Però ripeto, quando parlo di inaffidabilità in generale di tutti i club e dell'Inter, che è stata nel girone d'andata con 5 sconfitte, che poi sono diventate 6 con l'Empoli, la regina dell'inaffidabilità, non lo dico a caso, perché adesso il Napoli, diciamo la verità, si può permettere con 15 punti di vantaggio sulla seconda e 18 su tutte le altre e 20 sulla Lazio, si può permettere anche il lusso di concedersi qualche passo falso inatteso, magari col Sassuolo o col Torino, qualcosa che non ti aspetti, perché ormai chi può andarlo a prendere adesso onestamente, in tutta l'inaffidabilità che vediamo? Sì, va bene, parliamo dell'Inter, perché qui sembra che poi lo Scudetto lo vince il Napoli e lo perde solo l'Inter, no, lo vince il Napoli, lo perdono tutti, lo perdono in campioni d'Italia uscenti, lo perde l'Inter, diciamo che forse lo ha perso anche la Juventus, che al momento, anche se gli ridai i 15 punti, è esattamente a 44 punti come l'Inter, c'è più o meno un campionato, sì, con qualche passo falso in più, normale per tutti, ma il Napoli è fuori concorso, ecco io dell'Inter oltre all'inaffidabilità, e qui chiamerete in causa l'allenatore come sempre, non capisco quest'ansia, questo nervosismo che abbiamo sempre addosso, e a un certo punto Lukaku a Barella che continuava a dirgli vai di qua, vai di là, vai di qua, vai di là, a un certo punto Lukaku gli ha risposto per le rime, gliel'ha detto anche male, non è possibile avere uno mentre si gioca, che ogni volta, io sono così, ma quando gioco il giovedì con gli amici, io sono come Barella, quindi non dovrei certo dare lezioni a Barella, ma questi sono professionisti, quest'ansia che abbiamo fin dal primo secondo di una partita, dove vedi già dalle posizioni in campo che stai andando bene, sto parlando del primo tempo, che sei superiore, ma che cos'è? Questa nevrosi che ci prende e Barella che pianta subito 15 scatti e poi ovviamente mi va in riserva d'ossigeno, avevamo subito fatto capire che c'eravamo con Lukaku che ha lasciato l'immuriglio, l'ex, si è girato impegnato a Udero e poi pum, pum, comunque sembrava un tiro a segno, sta calmo, state calmi, che prima o poi le cose, se state calmi però, si sistemano e invece di nuovo nel secondo tempo la solita frenesia, però questa volta non sorretta dalle gambe, dal fiato e piano piano ti sei spento, poi la Sampdoria non è in grado di creare granché e quindi 0 a 0 è stato il risultato più ammissibile, più plausibile, mezzo passo falso, l'Inter adesso si goda l'unica mission che può avere, quella di mantenere un certo distacco sulle altre, potevano essere 5 punti, sono comunque 3, vi assicuro che per come eravamo messi un mese fa, perché il bicchiere bisogna vederlo anche mezzo pieno, non è poco e basta, ragazzi, scudetto chiuso, campionato andato, sono cose che noi vogliamo sognare sempre l'incredibile, ma neanche se il Napoli prendesse una crisi tipo quella dell'anno scorso dell'Inter per intenderci, il discorso si potrebbe riaprire, quindi il campionato, ma già lo sapevamo, è diventato ufficialmente a 19 squadre, tolto il Napoli in questo campionato virtuale che non assegna alcun titolo, l'Inter, se non un piazzamento in Champions League più sicuro di altri, l'Inter è prima, questa è la consolazione. Un saluto amici di Questudio e Stadio da Gianluca Rossi e a presto, iscrivetevi e naturalmente.